Sono Omar Usain, ho 23 anni, studio fisica a Pisa, faccio parte del Mensa, sono nel 2% della popolazione con il QI più elevato. Io amo la lettura, gli scacchi, il pianoforte, la musica, ma al contempo ricerco anche l'attività fisica. Sapere il potere, mi piacciono particolarmente persone superficiali e coloro che comunque giudicano e non si informano e anzi fanno vanto della propria ignoranza. Io sono italo-pachistano, vivo con mia madre e poi ci sono anche i miei nonni. Mi fa bene un po' di militare. Mi interesserebbe molto prenderne la costanza, la disciplina, sarebbe sicuramente funzionale a quello che è il mio più grande sogno, ovvero diventare astronauta. Grazie a tutti.